Ben a tutti raga e bentornati su questo nuovo video di Minecraft veramente dovrei dire bentornato a me perchè sono io che sono stato quello assente sul canale che non ho pubblicato più video vi do il buongiorno diciamo o buon pomeriggio o buonasera non so quando uscirà questo video dalla zona delle tartarughe mamma mia quanto gli sincilla il collo a questo tizio allora perchè allora ragazzi intanto volevo scusarmi con voi per l'assenza in tutto questo periodo ma purtroppo sto completando gli studi universitari quindi tra esami da preparare, tesi, poi le festività e cose varie non sono riuscito a pubblicare video neanche a registrarli completamente ovd avrei potuto fare dei video magari un po' più stupidi ma non era questo il mio intento raga voglio sempre cercare di fare dei video divertenti e simpatici e piacevoli quindi purtroppo non ho avuto completamente tempo e poi un'altra cosa che volevo dirvi è che non mi sono completamente disiscritto da nessun canale al quale sono iscritto qui ci sono i carrelli che corrono al quale sono iscritto perchè qualcuno nei commenti mi ha scritto appunto che mi ero disiscritto non è così purtroppo sono stato in attivo quindi non ho potuto vedere i vostri video non ho potuto commentare ma sappiate che io ci sono se dovesse mancare la mia iscrizione non è per causa mia sarà mai stato youtube io non c'entro niente e niente ragazzoli quindi questo è un video molto breve perchè appunto volevo darvi una spiegazione del mio essere completamente sparito così di botto e volevo farvi gli auguri di buon natale e augurarvi un buon fine anno e inizio anno ragazzoli io un video lo stavo registrando questo è il video numero 30 di minecraft che magari doveva essere un po' più particolare infatti l'obiettivo era quello di andare dall'ender dragon e raga io il video dell'ender dragon lo stavo registrando ma purtroppo è successo un fail assurdo che ora vi metterò la clip a fine di questo video e capirete perchè poi mi sono girate anche le scatole e praticamente ho un attimino abbandonato il tutto tra l'altro mi sono anche un attimino girate le scatole perchè mentre registravo quel video sono andato qua nel villaggio ragazzoli e purtroppo sono spariti tutti i villager sono spariti tutti i villager compreso il mio cartografo signori miei non c'è più il cartografo abbiamo fatto tanto per conservarlo ho perso troppo tempo io a recuperare la carta della magione ed è sparito il cartografo comunque ragazzoni non divagliamo troppo io ripeto vi auguro buon natale anche se in ritardo una buon fine anno e buon inizio anno spero di rivederci presto sul canale con nuovi video e di far partire il canale e le serie a palla e vi lascio qui sulla clip la mia esperienza dall'ender dragon dell'altro giorno e capirete perchè mi sono un attimo girate le scatole detto questo ragazzoli aspettate che cambio l'inquadratura se ci riesco ok detto questo io vi saluto vi invito a lasciare like, a commentare a dirmi quello che vi passa per la testa e ci vediamo ragazzoli in un prossimo video bella raga ok ragazzoli siamo in una zona che sembrerebbe tranquilla già c'è la vita dell'ender dragon quindi già siamo messi malissimo allora io direi per prima cosa in questa zona di qua posizioniamo subito la crafting table così creiamo una zona di crafting table posizioniamo io però ho sbagliato perchè forse qui no 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 ricordiamo la crafting table forse tutto quello che io lascio qua despauna quindi creiamo una zona varco qui mamma mia quanto ci sta a rompere questi blocchi mamma mia mamma mia raga mamma mia raga allora creiamo una zona sicura qui io neanche so se sto andando nella direzione giusta ma non ha importanza non è questo il nostro io lo sento lo sento raga lo sento lo sento lo sento questo video potrebbe venire lunghissimo ma abbiamo una missione da compiere la dobbiamo compiere ora dov'è la mia crafting table? mamma mia per un attimo ho detto ho perso la crafting table allora crafting table poi si chiama banco da lavoro ok posizioniamo anche questa cassa e mettiamo due testi di zucca le lasciamo qua lasciamo anche la spada che effettivamente ci può tornare utile per qualche altra cosa le mele d'oro le mettiamo subito a portata di mano anche queste le mettiamo a portata di mano e il secchio d'acqua mettiamo anche a portata di mano ok raga detto ciò iniziamo a salire raga e come finisce si racconta come si vuol dire saliamo da qua e vediamo che cosa spunta dove spuntiamo più che altro già il fatto stesso che siamo andati in una zona coperta questo è già una gran cosa però mi sarebbe piaciuto vedere dove siamo paura 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 ragazzi paura 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 ok oh 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 qui c'è l'apertura allora prima cosa prima cosa perché ora è scontato che io lo becco subito un un enderman che mi guarda ok ok dove siamo dove siamo dove siamo allora raga siamo messi male siamo messi molto male allora segnaliamo la mia zona segnaliamo la mia zona ok questa è diventata zona mia no questo aiuto raga sono morto la mia zona non è Grazie a tutti.